Buonasera a tutti, io vorrei ringraziare l'istitutore curatrice del tuo nome, la luce assalbata e la scuola dottor Rosa Giugno. Grazie alla tua desideria, la pubblicazione di questi diari, probabilmente vi dirà lei in modalità quali questo è venuto, ma voglio dire che senza il suo impegno, senza la sua riflessione molto profonda, noi non avremmo avuto un documento storico di rilevanza straordinaria e di grandissima densità, come ha detto Marcello Flores, questo è un libro molto piccolo anche alla vista, ma in realtà pieno di concetti e di osservazioni di grandissima rilevanza. Il libro va letto secondo me, come posso dire, a un punto di livello di lettura. Dalla parte c'è la vicenda strettamente personale di Antonio Giulietti, la sua vicenda di comandante partigiano, sui compagni, il suo rapporto a distanza con l'amatissima moglie Elena, con i tuoi figli, fino a un momento in cui uno praticamente nasce quando si trova in Francia, quindi qualcosa di molto intimo e anche di molto particolare, poi dirò perché da mio punto di vista lo è. Il secondo piano per due è quello collettivo, attualmente ci parla anche della storia dell'Europa, in corso d'opera, non solo della storia dell'Italia, ci parla sia proprio personalmente dell'unismo, quindi come la fase è in attività per partigire l'unista e quindi è in un certo senso un documento che ci consente di operare diverse impressioni su di lui e su ciò che non ci inconda e in qualche modo condiziona le sue impressioni. Questo piano era stato già citato però in una sola pagina da Giulietti stesso quando nel 2002 aveva pubblicato la sua bellissima bibliografia lettera avanti, però lo aveva tenuto in disparte, ne aveva fatto soltanto una piccola citazione che non vi ripeto che però è interessante in quanto criticava gli americani in rapporto al fatto che le persone come lui, ferite e obbligatoriamente trasportate in francia dai compagni, non erano abbastanza, non assistite, ma abbastanza, non posso dire, non ci si dedicava abbastanza per riportarli in patria. E questo motivo polemico non fu soltanto diretto agli americani, ma anche a Saraga che venne appunto criticato dall'autobiografia e che divenne appunto ambasciatore d'Italia dopo la fine del 1945 e quindi venne criticato a spravendita giuridico dopo questo suo, un po' di scarso impegno a distanza di molti decenni. Questo per me tra alcuni filamenti, diciamo, di quella realtà, rimasero anche in serie di ricostruzione autobiografica da parte di Giorgione. Dunque, il diario, come è stato detto Giorgione Marcello Flores, parte con un ottobre e dopo che, diciamo, per un anno Giorgione era combattuto a Barge prima e nelle valli di Lancio, in un secondo momento, quando era stato inviato l'affarente di San Polito. È una complessa frattura, molto coincidente, è costretto appunto all'immobilismo e tornerà in Italia soltanto in marzo del 1945. Io, in corso di questo mio intervento, vorrei anche citare, in sabore molto probabilmente, alcune cose che diario ci riportano a te, che appunto, potre accennare. Questo incidente, questa frattura, che sono così gravi, che la gamma verrà riaggiustata l'attoria giuridica a quattro volte. Quindi, in realtà, al trauma dell'incidente si deve sommare questa lunghissima e complicata degenza con quattro microinterventi, in qualche modo, che aumentano la sua frustrazione, che vorrebbe essere non soltanto a fianco all'amata moglie, ma, insomma, ci può combattere. Ci sono molte parti del viaggio, in cui parla dei compagni, in cui si augura di tornare presto, in cui, soprattutto dopo il 25 aprile, è manicomico, perché non può partecipare a quel momento, perché ha dovuto forzatamente rimanere allettato. E, naturalmente, come ho accettato prima, oltre al rapporto con Elena, c'è, sullo sfondo, Anna da un lato e Stefano dall'altro lato, che nasce proprio quando Antoni era in Italia. Una più osservazione da fare sulla scrittura è questa. Per quelle generazioni, questa è una cosa che io l'ho notato da subito, parlare di questioni personali, famigliate, in un viaggio, in una lettera, è molto complicato. Io sono dei carteggi, molti antifascisti, diciamo, dirigenti politici, non parlano quasi mai di amore, di sentimenti, delle donne, delle compagnie, compagnie, quasi mai, non ci sono mai, proprio quasi, in retroparole. Invece, in questo diario, Antonio Giulietti, che era una persona estremamente sober, estremamente seria, che poteva anche mettere in imbarazzo per questa sua sobrietà, che sarebbe invece un animo gentilissimo, affida al diario delle considerazioni di una dolcezza straordinaria, senza avere paura, in realtà, di manifestare i suoi sentimenti. aveva sposato Eva nel 39, e ne scrive, adesso potrei leggere in bari bassi, non lo farò, ne scrive in una maniera, secondo me, sorprendente, proprio per il tipo di formazione e per i tempi in cui stiamo facendo vedere. Un altro aspetto che abbiamo trovato, ovviamente, in questo diario è la tendenza, da parte dei mentori Giulietti, a fissare la dimensione collettiva della lotta resistenziale. È una cosa che appartiene anche a Dato, ma insomma, in molte pagine ricorda i compagni, quelli morti in battaglia, quelli capturati, capturati, fucilati, ci sono alcune pagine, alcune in particolare abbastanza impressionanti da questo punto di vista. e da questo è il personaggio più importante che ricorre, non in battaglia Nicola Barbato, ma ci sono tanti altri esponenti di quel mondo, comunista sì, ma in qualche modo aggiazionista, per ragioni, diciamo, geografiche, che vengono citati appunto da Milton Giovin. Questo per dire che egli non parla soltanto di sé e che, appunto, la storia di Giovin è una storia collettiva e l'omaggio che gli fa non è un omaggio metodico, è un omaggio di sostanza. L'omaggio di sostanza è che, d'altra parte, il nostro accento, il corso dove, che siamo appunto ancora tra il 1944 e il 1945, non si sa come andrà a vivere in realtà, anche se, ma a mano che si davanti, la speranza, diciamo, delle vittorie, ovviamente aumenta, ma anche per chi si trova, insomma, bloccato a letto, si capisce che le cose vanno, non c'è una reazione. Altre considerazioni che si possono fare, evitando appunto di dilungarsi e che riguardano la vita partigiana, secondo me si riguardano, per esempio, i contativi. Si è molto parlato, ovviamente, dei partigiani, di una volta armata, ma si è parlato con maggiore capacità del contesto che ha circondato la volta armata. In effetti, alcune parti di questo diario sono dedicate proprio a questo, cioè a quelle persone sconosciute, magari viste per una, due volte nella vita, che gratuitamente, diciamo, proprio senza pensare e con dei rischi molto importanti, ogni notte, durante gli spostamenti, ospitavano attrongiolinti, magari qualunque, compagni, a rischio della vita, naturalmente, che potevano appunto, solo in quella situazione, trovare un giacido, qualcosa da mangiare, perché, appunto, diversamente sarebbe stato impossibile organizzarsi. E questo aspetto ha una, diciamo, ci porta ad un'altra riflessione, quando Giuditti è un borghese. Un borghese, come di stesso a un certo punto dice, eroticamente, dell'altra borghese, cioè la sua famiglia è una famiglia che, in qualche modo, è stata importante. E capisce che cosa vuol dire vivere a fianco ai contadini e essere inseriti una volta che annula completamente una differenza di classe e di centro. Questa è una cosa profissima che si respira nelle pagine. Cioè l'idea che si stia soltanto per un account con una chiarezza di intendi estrema e come questa roba sia appunto trasversata alla società e coinvolga uomini, donne e origini vari. Dentro agli anni, però, non ci sono soltanto considerazioni politiche o militari o umane, ma con una grande parte dedicata alle opere che mi leggono durante la leggenza. Perché naturalmente non può che leggere e pensare, ma non lo fa. E siccome aveva lavorato a Parlegnano, Giuditti, che aveva avuto dire eventuale di grande spessore, qualche giovane, egli trascorre il tempo soltanto per pensare alla politica e ai suoi cari, ma che a leggere. E allora, legge è semplice, legge di tutto. E quasi organizza delle piccole recensioni di queste edizioni che legge. Ma si può parlare di Dante, di Trostoli, di Renan, di De Gaulle, di Rolland. Insomma, un diario da questo punto di vista che ha un terzo registro, se vogliamo. Quindi quello della dimensione privata del percorso di giuritti politico e militare, quello della dimensione resistenziale e collettiva e quello della cultura, della saggistica, che ci fa capire chi è e chi sarebbe stato Antonio Giuditti dopo. certo un politico, e non più un politico di un uomo dell'Einar, ma certamente un politico intellettuale. Non so se esattamente un intellettuale che è stata la politica, ma comunque una persona che ha fatto politica in una certa maniera, con una coscienza anche, diciamo, culturale certamente importante. Il comunismo. Giuditti era comunitante comunista, si era avvicinato al comunismo negli anni trenta. e per me era stato molto importante un viaggio per l'affatto di Fuglio Diaz durante fronte popolare, ma, diciamo, aderirà a Fascial conmigo soltanto in un secondo momento, anche perché essendo nato nel 1915, nel 35 e nel 20 anni, naturalmente questo conta. Cosa emerge del comunismo da questo dialogo? Antonio Giuditti non mi sembra fatto per le cività ideologiche, per i doni. E' vero che ci sono parole chiave di sostegno alla lotta sovietica, al sistema comunista, alla giustizia giacobina, come si diceva, però non c'è, almeno perché io ho visto, una chiusura, una città vera. Tant'è che quando parla di alcuni compagni, li descrive come eccessivamente chiusi e rigidi nelle loro manifestazioni essendo discosta in qualche modo. cita la storia del Partito Comunista Sovietico di Stato e dice prudentemente che bisognerà pensarci. Mentre c'è più magnatico, diciamo, nei confronti dei numeri di Stato operario del 37, che ha l'occasione di rileggersi e, a mente, sottolinea che trova coerente la linea politica del Partito Comunista da quel momento, diciamo, in avanti. Ecco, queste, diciamo, sono considerazioni, appunto, sulla città politica, ma più, quindi, che la teoria politica, che il dogma, è importante l'azione, che è il contamento della lotta a molti suoi compagni, non solo in quella regione che io ho ritrovato pensando alle Ovariane, pensando a molti altri, che sono diventati fascisti e poi partigiani non con l'idea di un mondo perfetto, non con la convinzione di avere la soluzione a tutti i problemi, ma con la necessità morale, veramente un passo prima, di fare qualcosa, di acire, di sconfiggere il nazifascismo, ma anche di evitare di tornare all'Italia liberale che in qualche modo lo aveva generato o comunque non ne aveva impedito. Quindi, sì, concepire una riduzione, una riduzione che però ogni forza politica poteva declinare diversamente e su questo, naturalmente, non ci sono molte considerazioni migliori di più errati, secondo me. Non è materia del libro, ci saranno forse materia delle persone nel corso di quest'anno. Direi che, prima di ricollegarmi a alcune pagine del diario, c'è un'ultima considerazione che vorrei fare. In realtà, in questo libro c'è anche un appendice, non c'è soltanto un diario. Quindi in questa appendice sono importanti alcuni articoli che altrimenti gli scrisse in quel periodo, addirittura si fece un'auto intervista che mi ricordo di sui giornali. All'interno di questi articoli, che sono secondo me interessanti, si trovano alcune delle cose su cui egli sotterma la sua attenzione in alcune parti del diario. Una è quella che vi ho accennato prima, e cioè il Dipartamento degli Italiani Antifascisti in Francia, su cui appunto scrive. La seconda, collegata alla prima, è la questione della puglialata da schiena del giugno-corrata che avrebbe fatto dall'Italianus alla Francia stessa. In sostanza, il tema qual è? Una volta che le alleanze si sono modificate, gli italiani, la stragrande maggioranza dei francesi, scrive Giolitti, rimagano ancora a voi della puglialata da schiena. E quindi anche gli antifascisti che combattono la stessa parte di De Gaulle o dei partigiani francesi, che sono sempre da guardare con una certa differenza. E lui di questo si lamenta, per quel che concerne Sarra, come vi ho detto prima, con la sua bibliografia, ma fa qualcosa di più, qualcosa di molto più costruttivo, scrive in questi articoli, spiega a suo modo che il contesto italiano era molto difficile perché tutti gli italiani erano più fascisti. Come è stato detto, tutta la gioventù è stata in qualche modo condizionata dal regime. e chiarisce che quindi gli italiani meritano da questo punto di vista fiducia. ripercorre a Cenna, alla Valle, per esempio, affermando come la stessa Francia, in qualche modo ha favorito in un altro momento la politica Mussolini, ritorna sulla guerra di Etiopia, sulla guerra civile spagnola, e dice oggi siamo dalla stessa parte sostanzialmente. Questa è una lotta internazionale contro i nazifascisti. Quindi noi dobbiamo guardare i francesi in una maniera seria, costruttiva, ma voi francesi dovete rendere riconto che noi non dobbiamo pagare lo scopo per il fatto di essere italiani, ma siamo dalla stessa parte e anche durante il regime non tutti erano fascisti e non tutti hanno spodato la domenata alla schiena che voi avete subito. Adesso mi permetterete di rientrare l'invento per alcune cose, sia pure sinteticamente, facendo parlare a questo punto anche un po' a tono. Mi sembra giusto dire con lui, attraverso la forma che indirizzò lui, alcuni concetti che io li ho rapidamente accettati. Una cosa importante da scrivere secondo me il 21 ottobre 1944. E' interessante perché è tra il privato e il pubblico. Scrive Penso spesso all'educazione dei nostri figli. Stasera facevo questa riflessione. Che l'educazione delle proposti di dare all'uomo i mezzi per raggiungere il massimo di felicità o se si vuole un minimo di felicità nella vita. Intendendo per vera felicità, vero sottolineato, quella del loro dotato di ragione e coscienza morale e quindi consapevole e di interdipendenza tra la propria felicità e quella altrui. Qui c'è la radice, secondo me, dell'essere di sinistra. E' una cosa che hanno detto tutti coloro che hanno preso al posto alcune strade. Ricordo un paio foco che dicevano sempre pensare a sé e a chi ha. A sé e a chi ha. Allora, senza nessuna retorica, in quel momento parlando di coscienza morale, che è un'altra parte, Antonio Giagluti lo ribadisce. Ma per tutte, nel secondo quaderno, perché i quaderni sono tre, c'erano un certo punto, una citazione troppo lunga per te, c'erano da dati il 9 novembre, e la devo riassumere, è una critica all'educazione ricevuta in famiglia. Da qui emerge quello che vi ho accennato prima, c'è un suo origine borghese che, ovviamente, dal film non si discosta, ma gli discute dal punto di vista dell'educazione. E dice, vi leggo soltanto questo, nel vivere la tua esperienza di questa vita di guerra, penso all'inadeguatezza e fronte ad essa dell'educazione vicenda in famiglia. La forza che trovo in me stesso, la devo principalmente all'autoeducazione che mi sono data sotto la guida di qualche amico e di molti libri. Autoeducazione umanistica prima e poi marxistica, e agli insegnamenti che derivano immediatamente da quella esperienza medesima. Ora, non aggiungo altro, ma c'è in questo una distanza che avverte dalle sue origini. A un certo punto scrive in due circostanze mi dà fastidio il tono delle lettere che mia madre mi scrive. Cioè, mi sento legato da un punto di vista attettivo, ma sento che il tono e gli argomenti non sono adeguati al momento in cui che io sto vivendo e all'esperienza che mi sono trovato di fronte alla guerra. Ci sono arrivato senza avere gli strumenti per, come posso dire, comprenderla bene, per viverla nel modo più culturale. Poi c'è una cosa molto bella che scrive a poeti piena, che unisce personale e culturale. Cioè, a un certo punto il 10 novembre scrive cerco conforto e distrazione nella lettura, ma sentito e bello, e tocca delle cose che conosco sensibili anche in Elena, ecco che mi prende imperioso il bisogno di parlarne con lei. Io credo che sia una cosa altissima. Cioè, da un lato, prova di futuro del lettore, ma ha un dialogo e un sentimento talmente profondo che addirittura il merito di questi saggi che legge o di questi uteri di letteratura riportano alla sua compagna, anche su questo versante che, se volete, è meno di nulla, ovviamente, dei tipi o del loro rapporto più personale. E concludo per ora, necessariamente contandomi sull'ultima pagina del diario, cioè il novembre di fronte del 1944, il 1945, scusate, la liberazione che è avvenuta, vorrego però dire che, appunto, la liberazione, come abbiamo spiegato, per lui è una cosa bellissima, ma c'è la trinomia, che prevale per il fatto di non esserci. E allora lo dice chiaramente il 27 quando dice che andrà una sorta, beh, Cristo è amato, Cristo è dover assistere ai più entusiasmanti, ai più entusiasmanti che bisogna vedere la nostra generazione, attraverso il pupo dell'asservatura, ascoltando la radio, con le lacrime agli occhi, e il cuore in tutto, ma impotente, intime e strano, quindi il dramma, diciamo, di una persona che è felice da una parte, che hanno vinto, ha vinto, ha vinto, ammette di avere contribuito alla lotta in Piemonte per un anno ad essere contento di questo, ma è molto dispiaciuto e rimanifico, e si capisce come la resistenza, in questo senso è stato un episodio della storia, altamente drammatico, ma pieno di entusiasmi e di vitalità, quindi si miscano questi due pianti. Appunto, il 9 maggio, il diario si confunde, e Antonio Giannini riparla di Elena. Oltre un mese è passato all'ultima lettera di Elena, e ogni giorno che passa, sempre più guardo a lei come al solo porto sicuro, alla somma di tutto ciò che ha valore nella mia vita. Quindi un amore stupendo che passa avrà perso anche gli interessi comuni, e che quindi viene, diciamo, formalizzato, come ho detto prima, la conclusione del diario è molto interessante. Per costruire la pace occorre anzitutto rieducare l'uomo, in gran parte abortivi dalla guerra, alla responsabilità e alla dignità della condizione umana, non bisogna sottovalutare la portata dello sconvolgimento morale determinato dalla guerra. Quindi una necessità di riconosizione sociale e politica, sì, ma un'attenzione dell'aspetto morale, cioè del rapporto, in buona sostanza, tra etica e politica. In questi anni ci hanno dovuto far credere alcuni che prestare attenzione all'etica significa essere moralisti. Basterebbe guardare un dizionario per capire che non è vero. In realtà, pensare alla politica dando un occhio, diremmo così, all'etica, significa provare a fare veramente gli interessi più e non soltanto i propri. e la tensione etica di Antonio Gerini è stata molto riva non solo in queste pagine, ma anche in tutta la sua storia successiva. Vi ringrazio. Grazie. 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 Grazie.